Oro più la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera ti aspettiamo in via Emilia 109 Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Torna Voghera a colori, l'iniziativa dell'associazione commerciante del Trepol Lombardo, la cui finalità è quella di rendere un po' più colorata la nostra città. Ogni commerciante potrà personalizzare la vetrina del proprio negozio con il colore assegnato alla zona in cui si svolge l'attività. Per esempio, Piazza Duomo sarà di colore rosa, Corso Rosselli sarà di colore verde. Vi piace come iniziativa? Sicuramente sì. Come mai le piace? Perché i colori è il simbolo della vita. Sì, non è una brutta idea, almeno un po' di vivacità ci sarà. Pensa che questa iniziativa, oltre a rendere più colorata la città, possa aiutare anche l'economia di Voghera e di invogliare i cittadini a di cui stare? Sicuramente sì, perché fa la città molto più viva. Lei parteciperà a questa iniziativa? Se riesco sì. Beh, magari con un cambiamento, non so, magari attira la clientela. Quindi secondo me sì. Lei pensa di partecipare all'iniziativa? Beh, se mi fosse possibile sì. Magari colorando anche la sua abitazione, non so. Se il padrone di casa vuoi, io non lo farei. Io ho un negozio e la mia via sarà di colore arancione, via Cavour. È un'iniziativa a costo zero, perché tanto i commercianti le vetrine le fanno lo stesso. E quindi sicuramente porterà in questo periodo di amministrazione, in cui c'è il commissario che ha un po' tagliato i costi per altre iniziative, sicuramente questa è un'iniziativa che non porta spese a nessuno, e anzi porta colore, porta via la città. L'anno scorso ha funzionato molto, è stata poi addirittura copiata in altre città, quindi sicuramente è un'iniziativa validissima. Qui parteciperanno sicuramente anche i cittadini, oltre che i commercianti. Porta allegria, porta colore alla città, è una cosa che serve, visto che anche in questi giorni sono state delle polemiche sul colore, almeno questa è una cosa che colorirà voghera e sicuramente sarà una cosa positiva. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.